Benissimo, siamo nello stand di Gianfranco Butteri, un marchio ormai già molto conosciuto da molte edizioni presente al Mica, ma non solo al Mica ma anche nelle fiere internazionali. Facciamo la prima domanda sulla collezione, so che avete curato molto tutti i vari cavi. Sì, la collezione l'abbiamo curata con la passione più forte che avevamo, proprio per dare quel valore in più a tutto quello che può essere le nostre scarpe da uomo ma anche da donna. Giustamente, anche perché in un sistema molto competitivo immagino che sia importante tenersi sempre ai massimi livelli. Certo, oggi, mentre una volta bastava fare quattro scarpe e tutto andava bene, oggi bisogna dare un amore che non ha fine, qualcosa di infinito. Sempre più cura insomma. Sempre più cura, sempre più colori, sempre più design, sempre più modelli ricercati, lavorazione a sacchetto, mocassini, sandali, le sportive, le classiche, ce n'è per tutti. Abbiamo mantenuto le stesse linee dell'anno scorso, sempre con colori nuovi, con fondi personalizzati, ma lo sforzo principale che abbiamo fatto è quello di mantenere gli stessi prezzi delle stagioni passate proprio per venire incontro ai nostri clienti che so che fanno fatica a vendere.